Terra Amara Anticipazioni di domenica 19 novembre 2023 È il giorno del compleanno di Adnan e Demir, insieme alla sua famiglia, e tutti i domestici, si dirige al circolo, dove si terrà la festa, mentre Fikret li osserva nascosto dietro una palma. La sala dedicata alla celebrazione del compleanno di Adnan, è gremita di gente. Arrivano anche Shermin Confusion, e le altre amiche, seguiti da Fekeli con Lutfi e Mujgan, che tiene tra le braccia che rema lì. L'atmosfera è festosa, e mentre Omid fa il suo ingresso nella sala, Shermin chiede a Demir cosa ha regalato al figlio. Demir prende il microfono, ringrazia tutti per la loro partecipazione. E dichiara di amare Adnan sin dalla sua nascita. Sottolinea che Ilmas è il suo vero padre, e desidera che il bambino lo ricordi sempre. Quindi, annuncia che, da quel momento in poi, Adnan porterà anche il nome del padre, e si chiamerà Ilmas Adnan Yaman, mostrando a tutti il documento ufficiale. La dichiarazione di Demir commuove Fekeli fino alle lacrime, e Zuleyya lo abbraccia ringraziandolo. Successivamente, Fekeli si avvicina a Demir, affermando che ha lo stesso cuore della madre, e che ha portato pace ad Ilmas, e ha reso lui felice, quindi lo ringrazia. E dà i suoi regali al bambino. Si avvicina Umit, anche lei con il suo regalo per Adnan, e chiede a Demir come sta. Lui, facendo buon viso a cattivo gioco, risponde educatamente, mentre Zuleyya la ringrazia. Nel frattempo, Gaffur si è introdotto nella villa, e si è messo a dormire nelle scuderie, sopra delle balle di fieno. Poco dopo, entra Fikret con una tanica di benzina, la posa a terra, fa uscire i cavalli, sparge benzina dappertutto, accende il fuoco, e se ne va. Poco dopo, Gaffur si sveglia, e urlando, riesce ad uscire tra le fiamme, e a dare l'allarme, facendo accorrere gli operai addetti alla tenuta. Intanto, la festa continua allegramente, finché Gaffur irrompe nella sala, urlando che qualcuno ha dato fuoco alla fattoria, e tutto è in fiamme. Poi, sviene. Demir, tornato alla tenuta, guarda la devastazione, e dice a Zuleyya che è stato Fikret. Quando Umit torna a casa, Fikret le chiede se ha saputo la notizia, e che avrebbe voluto vedere la faccia di Demir. Umit gli urla che ha quasi ucciso un uomo. Fikret risponde che è una bugia di Demir, ma Umit gli dice che lo ha visto con i suoi occhi. Fikret si giustifica, ma lei ribatte che lui sta agendo accecato dalla rabbia e dall'odio. Fikret non la vuole ascoltare, e le urla di smettere. Fekeli, tornato a casa, dice a Lutfi che, da quando ha saputo che Fikret non era partito, era sicuro che avrebbe combinato qualcosa. Lutfi gli dice di non incolparsi, perché Fikret ha tradito anche lei, e devono fermarlo. Il giorno seguente, Fekeli, in paese, incontra Demir, che gli chiede dove sia Fikret. Fekeli dice che non lo sa, ma che non accetterà che riscoppi la guerra tra loro. Demir gli ribatte di tenerlo lontano da lui, ma Fekeli gli dice che è un bastardo per aver disonorato la madre di Fikret. Demir gli chiede di scusarsi, ma Fekeli si rifiuta, e se ne va. Demir, inferocito, raggiunge Fekeli in azienda, e quando lui rifiuta di parlare, gli punta la pistola contro, e gli spara. Fekeli è a terra, in un lago di sangue, e viene soccorso dai suoi operai, mentre Demir se ne va. Zuleia si trova in paese, quando viene a sapere cosa è successo, e sconvolta, si reca in ospedale, e chiede di Fekeli. Umit è all'oscuro di tutto, ma Ikut le rivela che Cetin è andato a prendere Batiar, il cugino medico di Fikret. Fikret. Zuleia, piangendo, confida ad Umit di aver appreso che Demir e Fekeli hanno litigato a causa di Fikret, e che Demir gli ha addirittura sparato. Al ritorno di Umit a casa, urla a Fikret che Demir ha sparato a Fekeli a causa sua. Fikret, preso da un attacco di rabbia, minaccia di uccidere Demir, e chiede dove sia suo zio. Umit gli risponde che non lo hanno portato in ospedale, per evitare la presenza della polizia, e Fekeli non ha voluto coinvolgerla. Zuleia, disperata, appena tornata a casa, riferisce l'accaduto a Sevda. Poco dopo, riceve una telefonata da Demir, che le assicura di non aver fatto nulla di grave, e di non preoccuparsi, poiché i proiettili erano a salve, e Fekeli sta bene. Demir passa il telefono a Fekeli, che la rassicura di stare bene, e le chiede di non preoccuparsi. Le dice che è un bene e che tutti parlano di quanto accaduto, perché così lo saprà anche Fikret, e le spiega che lui e Demir hanno inscenato il tutto per far uscire Fikret dal suo nascondiglio. Poi, Demir raccomanda a Zuleia di non raccontare nulla a nessuno, di non uscire, e di mettere delle guardie al cancello, poiché Fikret potrebbe presentarsi. Fikret, preoccupato per Fekeli, viene rimproverato da Umit, che gli dice che è colpa della sua follia. Fikret, infuriato, se ne va, mentre Umit gli urla di non fare del male a Demir e alla sua famiglia, e di pensare a suo zio. Queste parole fanno fermare Fikret. A casa di Fekeli, oltre a lui e Lutfie, ci sono Demir, Cetin, e Batyar. Fekeli spiega che non avevano scelta per obbligare Fikret a uscire dal suo nascondiglio e fermarlo, poiché, dopo le sue azioni, non si sapeva cosa potesse combinare. Il piano è stato deciso insieme a Demir. Fekeli è convinto che Fikret si farà vivo per sapere come sta. Contemporaneamente, Fikret è seduto nel cortile di Umit, e lei, in casa, telefona a Zuleya. Ingenuamente, Zuleya le racconta che il ferimento di Fekeli è stata una messa in scena, e le chiede di non divulgarlo a nessuno. Umit si reca da Fikret, cercando di dissuaderlo dall'adottare comportamenti estremi. Tuttavia, Fikret ribatte con fermezza che ucciderà Demir. Poco dopo, Fikret si dirige verso casa di Fekeli, e una volta entrato, si trova di fronte a tutti coloro che lo aspettano. Sbalordito, chiede spiegazioni su ciò che sta accadendo. In quel momento, fa il suo ingresso Demir, annunciando che è lì per discutere e risolvere il loro problema, e porre fine alla guerra tra loro. Fikret lo insulta, insistendo sul fatto che Demir debba riconoscere che suo padre era un bastardo. Demir, irritato, ricorda a Fikret che sua madre era d'accordo con Adnan, e che non può sapere se è suo fratello o figlio di Musa. Nonostante gli avvertimenti, Fikret insiste. Demir dichiara categoricamente che non lo farà, e Fikret minaccia una guerra eterna. Demir lo avverte che se osa toccare lui o la sua famiglia, finirà nel sangue. Fikret risponde che sarà sangue o morte. Fekeli interviene, ammonendo Fikret di stare attento a come parla, rimproverandolo per non essere tornato in Germania come aveva promesso. Fikret risponde spiegando che non è tornato in Germania a causa dei manifesti diffamatori su sua madre. Fekeli lo redarguisce, sostenendo che sta seguendo la strada sbagliata, ma Fikret reclama la sua intenzione di uccidere Demir, dopo avergli portato via tutto, e se ne va. Mentre si allontana, Fikret incontra Mujgan, che, sorpresa, cerca di parlare con lui, che si rifiuta. Mujgan corre in casa, e dopo essersi accertata che Fekeli stia bene, chiede di Fikret. Fekeli le rivela che Fikret ha mentito, e non è mai andato via da Ciokurova. Mentre Fikret sta guidando, trova la strada bloccata da Demir, allora scende dall'auto, e gli punta la pistola addosso. Demir lo sfida a sparargli, ma Fikret rivela che il suo obiettivo non è ucciderlo, bensì rovinargli la vita. Demir accusa Fikret di essere entrato di nascosto a casa di Umit per fotografarli, e gli chiede il motivo per cui ha inviato le foto ad Umit, che è una donna sola. Fikret risponde affermando che, se avesse scattato le foto, le avrebbe inviate a Zuleyya. Fikret accusa Demir di essere un bastardo come suo padre, coinvolto in relazioni con altre donne, minacciando di rovinare la sua famiglia, proprio come Adnan ha fatto con la sua. Demir, gli risponde che ha cercato di parlargli come un fratello, ma lui non capisce, e gli consiglia di fare ciò che vuole. Fikret si reca a casa di Umit, e infuriato, la strattona, e le imputa il fatto di averlo venduto a Demir. Lei nega, spiegandogli che Demir aveva già le foto, e che Zuleyya ha deciso di perdonarlo. Gli dice che devono accettare di aver perso, e che non possono ottenere ciò che volevano. Fikret ribatte che non si fermerà finché non farà del male a Demir, e lei deve aiutarlo. Quando Demir torna a casa, Zuleyya lo abbraccia, chiedendogli se Fikret si è fatto vedere. Demir conferma, ma che non si arrende, perché non ha nulla da perdere. Zuleyya esprime la sua paura, ma Demir la rassicura, affermando che Fikret non farà niente. Zuleyya gli racconta che Sevda è turbata dal fatto che Adnan avesse tanti amanti, e Demir risponde che il padre era innamorato di Sevda. Zuleyya lo contraddice, sostenendo che, se fosse stato innamorato, non avrebbe cercato altre donne. Poi, gli chiede se lui potrebbe stare con un'altra donna, e Demir le assicura che per lui esiste solo lei. Mujgan raggiunge Fikret nel suo ufficio, lo abbraccia, nonostante sia arrabbiata con lui, per le bugie e le sue azioni, ma quando lo vede, dimentica tutto. Poi gli chiede perché non si fida di lei, e la fa soffrire. Fikret accarezzandola, le spiega che non se n'è andato a causa della macchia sul nome di sua madre fatta da Demir, e poi si abbracciano. Mentre Demir non riesce a dormire per le parole di Zuleyya, Sevda si introduce nello studio di Demir, e si impossessa della sua pistola. Il giorno seguente, Umit riceve la visita di Sevda, che la prega di chiamare la zia Berrin, per conoscere la verità, e per convincerla, si punta la pistola alla tempia. Umit, arrabbiata, chiama la zia Berrin, e Sevda le chiede di ascoltare dall'altro telefono. Quando Berrin risponde, Sevda le chiede dove sia sua figlia. Berrin le risponde con freddezza, dicendole che dovrebbe essersi stancata di fare quella domanda dopo tanti anni. Sevda rivela di avere una figlia che le è stata portata via dall'ospedale. Berrin le ricorda che era solo una umile cantante, che non poteva sposarsi con il padre della bambina, per evitare di infangare il loro nome. Sevda, piangendo, le dice che non voleva niente da loro, voleva solo sua figlia. Umit, ascoltando tutto con le lacrime agli occhi, interviene, accusando la zia di averle sempre mentito. Interrompe la conversazione, e abbraccia sua madre. Nel frattempo, Demir è con Zuleya, e sta per raccontarle della sua storia con Umit, quando Sherman li interrompe, e poi, Fadik riferisce che Sevda non è in casa, ed è uscita con la macchina. Sherman parla dell'episodio avvenuto in ospedale, evidenziando lo stato mentale instabile di Sevda. In quel momento arriva Sevda, che fornisce giustificazioni confuse sulla sua assenza, e Sherman dice a Demir che è impazzita. Successivamente, Demir porta Sevda nelle scuderie, e le comunica di voler seguire il suo consiglio di raccontare a Zuleya della sua relazione con Umit, poiché deve saperlo da lui. Sevda, tuttavia, risponde che se glielo dice, Zuleya lo lascerà, poiché non è il momento giusto, specialmente ora che hanno un nemico pericoloso come Fikret. In quel momento, li raggiunge Zuleya, e li invita a prendere il caffè. Rivolgendosi a Sevda, esprime la sua gratitudine per tutto ciò che ha fatto, affinché lei e Demir fossero felici. Poi, Zuleya chiede a Demir cosa le voleva dire, e lui, cambiando idea a causa delle parole di Sevda, le spiega che è preoccupato per la salute mentale di Sevda. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.